Quindi, tocca a me, andiamo con il ATT Wow, proprio sicuro Sicuro, sicuro Dammi la possibilità, cambia posizione Cambia posizione, mi ha dato la possibilità Posso cambiare? Eh, sì Sicuro? Sì Io resto con la TT Chi è? Ibra Sì, sul serio? Sul serio? Sì, sul serio? Sì Goodbye, goodbye La 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 Goodbye Goodbye Ciao, Ibra Posso scartare 700 mila reti di così Dai Ciao, Ibra Ci vediamo Ho detto che cambiavi Però Ci vediamo Manchester Ibra Ci vediamo Manchester Ibra Ciao, Ibra Ha già fatto Però Ma ti devo far scartare una nod Cioè Eh 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 Oh no Eh Aspetta, però Mi ricordo le posizioni Cazzo A me Manca L'ATT Dai, dimmi le posizioni I tre centrocampisti Un DC Quello sinistro E il portiere A quel ora Tipico centrocampista Centrale Sinistro Sicuro? No Vado col centrocampista Centrale Borsa Eh Mi hai detto di cambiare No Si è spenta la televisione Che cazzo Ok Adesso è andata Chi è dai Erick Bronzino Oneto Allora Quindi se mi hai detto di cambiare Significa che ce l'hai là Ok Quindi ragazzi Se Erick Mi chiama Proprio lui Dici Stotz E' finita E' finita Il search and discard E lui si chiama Ronaldo Grazie Erick E anche del pink Eh Vabbè Erick Più che altro Allora Cos'è che ti hai chiamato prima? Cos'era TT Giusto? Ok Quindi lo togliamo Quindi teoricamente Te manca L'ATD Il CC Sinistro Il terzino sinistro Il difensore centrale Destro Il portiere Giusto? Si Quindi Te sei un po' Un truffaldello Ecco E secondo me Te l'hai messo In una posizione Molto molto critica Ovvero Il portiere Ma come cazzo fai? Cioè dai Non è possibile Su serio? Eh dai Erick Ma che l'hai visto Da nel telecamera Su serie Mi sono Te lo giuro Erick Si che culo Però mi dava possibilità Dammi l'ultima possibilità Ti prego Allora Te ne prego Allora si Ti do l'ultima possibilità Quindi ricapitolando Ti mancano C'entra la pista centrale Centrale C'entra la pista centrale Sinistro Si Poi La TT Il DC E il portiere Il DC destro No sinistro E quindi quello Me lo chiami? No 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 Aspetta Andiamo con il centrocampista Centrale Centrale Allora Che ho dato questo Ultima possibilità E mannaggia A quel Si Parla bene Usa l'educazione È chiaro? Te mi hai preso un bronzino E quindi Mi tengo Ronaldo Carta Cap and Bronzino Cap and Bronzino Cap and Bronzino Ma che ce stai Più? Più ce stai? Ce stai? L'affanculo Quindi Ragazzi Io mi sono tenuto Il Portiere Luis Gustavo Pink Cr7 E un altro bronzino Che è Dinei Se non sbaglio Ah no Si chiamano No Dove ce l'avevi? L'avete? E' finita Ah eh Fammi ascoltare Vabbè Tanto per cambiare Lo avevo Ehm Cici Cici Sinistro Dai Io ho cambiato A Buccini Mamma Dai Ma come sono scemo Quando cambiano Io avevo zeri Su cerete che si Te lo giuro Dai è quale Dai Ma voi mi fregate Però Tutti i canali Dall'Uricchio Crew Fius saluta Passate da Dico Maglie E da Francesco Salamone Mi raccomando Esatto Limpi descrizione E noi ci vediamo Che hanno un prossimo video Bella ragazzi Ehi Purtro Venga Tama 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 Tama